Il tribunale arbitrale dello sport ha ridotto la squalifica del brasiliano Neymar in Champions League portandola da 3 a 2 turni. L'attaccante del Paris Saint Germain salterà dunque il primo turno in casa contro il Real Madrid e la trasferta in Turchia contro il Galatasaray, rientrando a disposizione del tecnico Tuchel nella sfida sul campo del Bruges in programma il 22 ottobre prossimo. La squalifica era arrivata lo scorso 6 marzo a causa degli insulti rivolti agli arbitri in occasione dell'ottavo di finale della scorsa edizione di Champions contro il Manchester United. Davanti alla TV nel K.O. della sua squadra al Parco dei Principi, Neymar aveva fatto esplodere sui social la propria rabbia attaccando pesantemente i direttori di gara che avevano accordato un calcio di rigore in favore degli avversari per un dubbio fallo di mano. Grazie a tutti!